E' complicato a caldo pensare a una partita persa all'overtime che con l'ultimo tiro ci avrebbe portato al playoff perché le sensazioni sono molteplici, perché bisognerebbe avere anche la lucidità di rivederla e di valutare alcune cose, ma ciò non toglie che i ragazzi credevano e ci volevano in tutti i modi provare a farcela, hanno iniziato la partita completamente tesi, sbagliando i punitivi, sbagliando alcune cose, le pare perse, ma questa è una cosa abbastanza normale con l'importanza della gara, ho cercato anche alla fine al primo tempo di tranquillizzare quello che stanno facendo, abbiamo iniziato di nuovo bene, siamo arrivati poi nel momento importante più 8, abbiamo sbagliato dei tiri facili da sotto, siamo arrivati a più 10, queste sono le cose che mi ricordo e credo che nel momento in cui siamo arrivati a più 10 abbiamo assolutamente non capito cosa stava succedendo in campo, assolutamente, nel senso che abbiamo fatto dei tiri da 3, da 8, 9 metri, quando in quel momento potevamo attaccare, continuare a andare a tirare da sotto, mettere la palla dentro, non potevamo arrivati a 10 punti in quel modo lì, abbiamo preso dei tiri dovuti proprio alla voglia di vincere la partita, di vincere i 20 punti, di finirla, ma le partite non sono problemi, e il tipo di serenità che abbiamo avuto, non so, nel terzo, quarto, metter l'isola, con la partita di Verona, chiaramente quella con Roseto in casa, sembrava che questa fosse una squadra che mi avessi persa completamente, questa serenità e quel tipo di tranquillità, è vero che molte volte siamo arrivati a un video per fare una cosa importante, per riuscire a fare una cosa importante, sembra quasi che alcune cose ci schiaccino, di tensione, e quindi è ovviamente una sconfitta molto amare, non ci sono dubbi, allo stesso tempo, allo stesso tempo dobbiamo ritenerci, se ci riteniamo sfortunati per alcuni tiri, canesti, da trea, l'ottacampo, pazzerbiter, cose così, dobbiamo anche ritenerci fortunati, secondo me, perché abbiamo un'altra partita sabato sera, i risultati sono stati, se nella sfortuna di alcuni possessi di questa sera la giriamo dall'altra parte, dobbiamo dire che i risultati sono stati positivi per noi, e quindi ci è andata bene, siamo stati fortunati per quello, e adesso sabato sera, e lì non c'è altro da fare, quella è la partita, è la partita dell'anno, non ci sono altri discorsi, ne storie, ne tensione, ne tiri da metà campo, non c'è niente, quella è la partita, punto.